La pratica materasso? È sospesa, anzi annullata definitivamente, non se ne parla proprio. Ma come? È un mese che mi rompi per fare l'amore e adesso che ci sto mi sbatti fuori. Ma Amanda, ma tu non l'hai mai letto Proust. L'uomo ama idealizzare, ma quando il sogno diventa realtà scatta l'indifferenza. Sarò un venditore di macchine ma c'è un bagagliaio di cultura che fa spavento. Ma Proust era gay. Lo so, ma c'aveva due palle così.